Amici di Milan.soccer, una notizia straordinaria appena abbattuta dall'Ansa, una notizia purtroppo non positiva per noi del Milan, pareva essere chiusa la questione relativa alla questione scommesse e invece è stato indagato Florenzi. Anche l'esterno del Milan, Alessandro Florenzi, è stato iscritto sul registro degli indagati della Procura di Torino che dunque allarga la sua inchiesta. Staremo a vedere nelle prossime ore che cosa accadrà, per lui le stesse accuse di Tonali, Zaniolo, Fagioli eccetera eccetera. Nessun commento da parte del Milan per il momento che ha preso della notizia direttamente dagli organi di informazione così come abbiamo appreso noi in questo momento, per ora non ci sono altre informazioni di dettaglio, seguiremo la faccenda domani nel video di metà mattinata.